bene riprendiamo ora la lettura di alcuni passi tratti dall'elettra di soffocle eravamo rimasti alla fine del monologo di elettra coro ecco lo vedo sì c'è tuo marito ha interrotto il lavoro è diretto qui contadino ehi stranieri sulla soglia di casa mia chi sono perché questa visita alla mia povera casa cercano me per una donna è vergognoso fermarsi con dei giovani elettra o caro non farti a salire dal sospetto saprei subito di che si parlava questi stranieri sono venuti da me con notizie di oreste e voi stranieri scusate le sue parole contadino che dicono è vivo è salvo elettra è vivo a sentir loro e riportano cose attendibili mi pare contadino gli resta qualche ricordo del padre e delle tue disgrazie elettra lo credo bene ma poco possono gli esuli contadino ti hanno portato qualche messaggio di oreste elettra li ha mandati per conoscere i miei mali contadino parte li vedono parte glieli dirai tu elettra sanno già non c'è cosa di cui non siano stati informati contadino ma da tempo bisognava aprirgli le porte entrate entrate per queste liete notizie avrete i doni ospitali che può offrire la mia povera casa servi portate dentro i bagagli no non rifiutate voi venite come amici da parte di un amico sono nato povero ma il mio animo non è ignobile e ve lo mostrerò oreste per gli dèi è questo l'uomo che d'accordo con te elude cioè evita le nozze imposte per non disonorare oreste elettra lui è chiamato lo sposo della povera elettra oreste no non esiste un criterio sicuro per giudicare gli uomini c'è grande confusione nella loro natura mi è capitato di vedere figli inetti da padri straordinari e da padri vili figli valorosi ho scoperto la miseria nella superbia del ricco grandezza d'animo nel corpo del povero e allora quali sono i criteri per giudicare rettamente la ricchezza avremmo un pessimo giudice la povertà la povertà ha un difetto insegna all'uomo ad essere malvagio per bisogno la guerra le armi ma chi può garantire badando a una spada che un uomo ha virtù meglio lasciarle come stanno le cose in balia della sorte lui non è un grande fra gli argivi non va superbo per la fama del suo casato è uno dei tanti eppure si è rivelato il migliore non sarete mai saggi voi che vi perdete fra le tante false opinioni e non giudicate i mortali in base alle loro compagnie e la vera nobiltà in base alle azioni gente così amministra bene città e case ma corpi privi di intelletto non sono che statue di piazza un braccio forte non resiste ai colpi della lancia più di uno debole dalla natura e dall'animo dipende la capacità di resistere ma poiché il figlio di agamenone presente o assente che sia ne è degno e noi siamo venuti per lui accettiamo l'invito entrate in casa servi per me un ospite povero ma sincero è meglio che uno ricco lodo perciò l'accoglienza ospitale di quest'uomo certo preferirei che fosse tuo fratello felice ad accogliermi nella sua casa felice ma oreste forse verrà sicuri sono gli oracoli di apollo le profezie degli uomini invece le lascio perdere coro ora più di prima elettra il cuore si scalda di gioia forse nella sua marcia faticosa il destino si fermerà benigno presso di noi ecco dunque questo monologo di oreste è un po anche la ragione per cui ho scelto di leggere con voi questo passo perché è proprio qui che si rivela l'aspetto classico di quest'opera cioè un'opera senza tempo oreste si fa delle domande oreste come abbiamo visto nel mito in generale è un personaggio combattuto deve fare una scelta molto difficile seguire la tradizione che gli impone di vendicare la morte del padre e uccidere così la madre oppure non farlo e in questo caso sarebbe un vile sarebbe un codardo uno dal poco coraggio non degno neppure del nome di uomo quindi deve accettare il proprio destino oppure nascondersi ovviamente l'eroe nel mondo greco è quello che pur sapendo che cosa comporta è in grado di accettare e sopportare con forza il proprio destino però qui in questo punto non è il dramma di oreste la parte centrale è una riflessione sulla natura degli uomini elettra è stata fatta sposare con un povero contadino quindi appartiene a una classe sociale bassa per disprezzo l'hanno fatta sposare con lui lei di nobilissima famiglia eppure quest'uomo povero si è rivelato il migliore di tutti in realtà di animo il più nobile tra tutti questi personaggi forse proprio lui che non ha nulla cioè in realtà non è che non abbia proprio nulla perché ha dei servi quindi non è un contadino senza niente ma è un contadino piccolo possidente avrà qualche terra e che lavorerà comunque di una classe umile addirittura questo contadino prova tanto rispetto per i valori della tradizione per la giustizia che pur essendo sposato con elettra non l'ha nemmeno mai toccata aspettando il consenso ufficiale di chi effettivamente ha diritto di darlo cioè di oreste che è lontano e sta dalla parte della moglie sta dalla parte della della giustizia secondo i valori tradizionali cioè gli è stato commesso un grave torto al di là che agamennone potete pensare se lo meritasse o no però comunque è stato ucciso un re a tradimento nella sua stessa casa dalla sua stessa sposa e dall'amante di lei e è stato buttato il suo corpo fuori in una fossa senza onori quindi una cosa gravissima per il mondo greco e quest'uomo quindi appartiene a una classe sociale più bassa un contadino si rivela a colui che più di tutti invece rispetta i valori morali che più di tutti è nobile rispetta la moglie nel suo dolore e rispetta tutto ciò che c'è di sacro quindi oreste si chiede se ci sia un criterio unico un criterio sicuro per giudicare gli uomini su che cosa ci si dovrebbe basare a volte chi comanda chi ha il potere o chi è ricco o chi è più bravo nella guerra nelle armi non è detto che sia il migliore in generale in assoluto in tutto e quindi su questo grande interrogativo io vi lascio potrebbe essere il titolo di un tema per esempio e vi invito quindi a scrivere il vostro pensiero a scrivere la vostra opinione su questo punto quindi rispondere provare a dare voi anche una vostra risposta alla domanda di oreste se possa esistere un criterio per giudicare gli uomini per dire questo è migliore questo è peggiore questo è buono questo è cattivo se esista se non esista se ci siano più criteri ecco quindi riflettete su questi aspetti